Un altro Ok Ciao a tutti ragazzi siamo ritornati con un nuovo episodio Aaron è già andato con la navicella un po' più avanti Eh mi si era, mi si è appena rotta No Eh ma spero che te l'abbiano rotta così meno vai a piedi come me No ho tanto assedimento Perché c'era abbastanza bordello qua Extra life Yeah Yeah baby No 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 38 di vita Quanti cazieri arrivano No basta No i tori no 12 di vita Eh qua ci lasci le penne Mi dispiace Ecco dobbiamo andare in quel castello Eh che culo Ah mi hanno atteso una trappola e troppo di meta Che bello Deve essere felice Mica troppo Bye bye Ok Good Ah che Mi ha ammazzato l'unicornata E ma abbia dai Di dietro o da davanti Eh Credo davanti Ah Mi inquattro draghi Se è draghi No dinosauri Dinosauri Draghi Un rinoceronte che mi sta prendendo da davanti Ma l'ho fatto a frittella prima che mi condesse C'è un rinoceronte che mi stavo Mi stavo Sorpassando Non si sorpassa sulla destra Eh Guarda Ci sono anch'io eh Non mi cagano Cioè no Cioè mi cagano Eh come Eh Un altro Dai Basta È un'angoscia Io 12 meter Non devo Anch'io Attacchiamo Andando È uccido prima che tu arrivi Un altro Dai Ancora Ti porti in salvo Andiamo Non 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 Lei è tappi Mi ma quanto è lungo ancora? Lo sto rubendo sinceramente e le vado Ho 11 di vita il mio barretto Che cavolo è? Portale mega gigante Precise, precisi No, mi hanno distrutto la mia carretta Cavolo è quel portale gigante No, un dino, un'altra volta un dino, bambi Papi, ehm Dietro Guardati dietro Che cavolo è? Super vigilone di terzo livello Oh, non muore, cavolo E' enorme E' enorme, dai che muore, dai che muore E' rosso Oh Oh, finalmente ha detto una parolaccia Non ne potevo più, ma non finiscono mai qua Finalmente ha detto una parolaccia la signorina Eh, giù ragazzi che è mezz'ora che ci siamo dietro in questo campo Abbiamo tagliato un pezzo di video perché ne è La quinta extra live Possiamo farvi vedere tutta la battaglia Lunghissima, veramente Allora Altro? Dove sono? Ok, non c'è più niente Di friggere dove sono? Allora, due di là che arrivano con gli elicotteri L'aeri Possiamo passare nella porta Oh Signora abbiamo finito il livello Ok ragazzi, ci vediamo nel prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti